E' stata una vittoria di Pirro, quella del centrodestra abruzzese che dopo due giorni di braccio di ferro con l'opposizione a tarda notte è riuscito a far approvare la richiesta di referendum abrogativo della quota proporzionale della legge elettorale. In realtà la vittoria reale è quella dell'opposizione PD-Movimento 5 Stelle, riusciti a rallentare l'iter del Consiglio regionale, quel tanto che è bastato a rendere l'Abruzzo sostanzialmente ininfluente ai fini del dettato costituzionale che prevede la richiesta sia sottoscritta da cinque consigli regionali, nel caso di specie Lombardia, Veneto, Friuli, Sardegna e Piemonte. PD e Movimento 5 Stelle attaccano il presidente Marsilio, ostaggio secondo i consiglieri di minoranza dei diktat della Lega. Il referendum abrogativo infatti è uno dei nuovi cavalli di battaglia del leader del Carroccio Salvini passato all'opposizione preoccupato da un possibile ritorno del proporzionale puro. Abbiamo assistito insomma a manifestarsi diciamo delle incapacità di questa maggioranza di governare Regione Abruzzo, di organizzare i lavori del Consiglio regionale, di organizzare i lavori nelle commissioni, di non avere nessuna risposta a tutti i provvedimenti che sono stati portati in commissione in questi giorni. Volevano arrivare primi con l'approvazione del quesito, sono arrivati ultimi grazie al lavoro di opposizione del centro-sinistra, del Movimento 5 Stelle, grazie alla denuncia forte che abbiamo fatto nel corso di tre giorni di lavoro di una sistematica violazione delle norme del nostro regolamento, del nostro statuto, di un stravolgimento dei più elementari principi di programmazione dei lavori. Per fare che cosa? Per approvare un quesito che io sono fiducioso non sarà ammesso perché contiene disposizioni contrari ai principi di eguaglianza del voto, di rappresentatività, ai principi che la Corte Costituzionale ha più volte ribadito. Il ritardo nell'approvazione della richiesta di referendum, ostacolato da ben 2800 emendamenti, rischia di avere ripercussione all'interno del carroccio. Domenica Salvini dovrebbe piombare in Abruzzo per incontrare gli elettori e per fare il punto della situazione con i suoi. Da Fratelli d'Italia si predica calma, con Guerino Testa che risponde così agli strali dell'opposizione rispetto ad una giunta che starebbe tralasciando i problemi seri degli abruzzesi. Il centro-destra è ben consapevole che la sanità, le attività produttive, il sociale, l'edilizia abitativa e tanto altro sono le vere priorità della nostra regione, specialmente dopo cinque anni di buio assoluto dove molte di queste priorità sono state assolutamente inascoltate e in evase. Ma noi sappiamo e siamo consapevoli che una nuova legge elettorale che porta un maggioritario puro sia anche questa una cosa molto importante per l'Abruzzo e per gli abruzzesi.